A fare la didattica a distanza dalla scuola dell'infanzia è veramente molto difficile, ma nonostante questo le nostre eroiche maestre hanno ingegnato un sistema davvero divertente per coinvolgere i bambini e anche le mamme e farle sentire meno sole, poiché hanno usato uno strumento informato che si chiama il Padlet, che è una specie di bacheca virtuale sulla quale i bambini potevano pubblicare tutti i loro lavori, perché ovviamente loro non sono ancora alfabetizzati, quindi si esprimono moltissimo con le immagini, non solo i loro lavori grafici, quindi disegni e quant'altro, ma anche per esempio le loro foto mentre facevano i lavoretti che erano concordati con le maestre, spiegati alle maestre. Questa iniziativa ha avuto così tanto successo che hanno deciso di organizzare una mostra virtuale che si chiama pandemia delle foto, però ritengo che comunque queste siano forme molto utili non solo per far esprimere i bambini, ma anche per far capire l'importanza che la scuola riveste all'interno del territorio e delle famiglie è un'importanza culturale, sociale, ma anche di cuore e di vicinanza.